Buongiorno a tutti, benvenuti al primo incontro, il primo di due webinar sui incontri della resistenza in Italia organizzati dall'Istituto Storico della Resistenza di Parma. Prima di iniziare l'incontro con Matteo Petracci che ci presenterà la sua ricerca legata al volume Partigiani d'Oltremare, lascio la parola per i saluti a prima Paola Salvini che è Presidente di Parma per gli altri e poi a Marco Minardi che è appunto Direttore dell'Istituto Storico di Parma. Grazie Nico, buongiorno a tutti e a tutte, sono Paola Salvini, sono la Presidente di un'associazione, di un'organizzazione lungo alternativa a Parma per gli altri che da 30 anni circa lavora in Etiopia per contribuire a un miglioramento delle condizioni di vita ed economiche, soprattutto lavoriamo in un territorio rurale molto lontano dalla capitale di Sadeba. Abbiamo sviluppato in molti anni tanti progetti in cui stamattina chiaramente anche se avrei voglia di condividerli con tutti voi non è possibile, non è la sede per questioni appunto anche di tempo, però due cose sul perché una organizzazione non governativa che lavora da tanti anni in Etiopia ma è qui stamattina mi piace mi piace ricordarlo. Lavorare in un territorio per lo sviluppo di un paese significa anche cercare di conoscerlo a fondo, non solo nella situazione attuale ma anche per com'è stata la sua storia e chiaramente con l'Etiopia sapete che abbiamo avuto una storia di colonialismo, una storia passata che ha inciso però tantissimo nella storia italiana e nel sviluppo di quelle che sono state le colonie e che direi è particolarmente dimenticata o spesso messa da parte e per questo io ringrazio in modo particolare l'Istituto Storico della Resistenza con il quale noi da anni come associazione lavoriamo sia per conoscere più approfonditamente la storia dell'Etiopia che sicuramente anche per condividerla e per farla conoscere e questo perché anche nei progetti che noi facciamo in Etiopia che sono progetti legati alla salute, legate all'istruzione in modo particolare, allo sviluppo delle comunità e quindi cercando di dare opportunità anche di lavoro incide tantissimo la nostra conoscenza e lo sviluppo che ha avuto questo territorio negli anni. Come lavoriamo noi là? Lavoriamo in un modo in cui cerchiamo di conoscere e di condividere qualsiasi progetto che noi facciamo con le comunità locali e questa è un po' la caratteristica, caratteristica che io credo sia condivisa da molte delle associazioni che lavorano in territori lontani ma che hanno proprio un preciso scopo di superare e di non ripetere quegli errori che sono stati fatti, cioè di portare noi occidentali sia strumenti che tecnologie che conoscenze inadeguate rispetto al contesto. Quindi la prima cosa e la cosa importante da fare è quella di ascoltare e di darsi del tempo, tempo per approfondire e conoscere le cose, le risorse e utilizzare tutte le competenze che sono presenti sul territorio. Quando poi appunto Domenico Vitale ha anche colto l'opportunità, mi ha offerto l'opportunità noi come associazione di partecipare a questa mattinata in cui viene presentato questo libro particolarmente ricco e interessante Partigiani di Oltremare di Matteo Petracci, mi è sembrato un'opportunità molto grande proprio perché c'è anche la storia in alcune sfaccettature diciamo di come il popolo etiope e gli altri popoli del corno d'Africa rispetto al nostro colonialismo hanno partecipato, hanno vissuto, hanno condiviso e anche partecipato attivamente alle scelte che una parte dell'Italia ha fatto e ha dato un contributo significativo. Quindi ringrazio ancora davvero per questa opportunità e credo che la possibilità di parlarne con tante scuole e con tanti studenti di questi temi sia una grande occasione per noi. Quindi grazie e intanto lascio la parola al direttore dell'Istituto, credo Marco Minardi. Grazie Paola, buongiorno e ben ritrovati anche se con questa modalità non propriamente adeguata a un 25 aprile. Per il secondo anno il 25 aprile lo dobbiamo in qualche modo celebrare così. Speriamo nell'anno prossimo una situazione migliore in tutti i sensi. Se c'è una data che ci costringe, ma lo facciamo ben volentieri come Istituto Storio d'Esistenza, che noi sostanzialmente ci occupiamo di ricerca, di didattica della storia, la conservazione della documentazione legata all'otta di liberazione, alla storia del Parmese del Novecento. Se c'è una data che ci costringe a misurarsi col presente è proprio il 25 aprile. Il 25 aprile è una data straordinaria, credo, lo dico ovviamente da punto di vista dell'Istituto, ma non solo mia, nel quale il passato e il presente si intrecciano. C'è poco da fare. È giusto ricordare la storia del movimento di liberazione, di tutto quello che ha attraversato l'Italia in quei terribili cinque anni di guerra e soprattutto gli ultimi due con la guerra in casa, ma va intrecciata col presente. Chi 25 aprile ricorda il giorno della liberazione non può fare i conti con la realtà che viviamo. Per questo il coinvolgimento in questo incontro di oggi di Parma per gli altri e negli altri incontri che noi proviamo a organizzare per il 25 aprile in questa forma molto, molto fredda, il nostro pensiero è quello di provare a stimolare gli studenti, ma non solo loro, a intrecciare i valori che erano dietro la lotta di liberazione, i valori che in qualche modo sono poi passati nella Costituzione col presente. Non è una data che ricordo un evento del passato e basta. Ci deve aggiornare la resistenza e il 25 aprile deve aggiornare continuamente il nostro modo di ragionare sul presente. Ovviamente lo facciamo con gli storici, con i ricercatori che hanno passato ore, se non settimane e mesi, in archivio provando a rienterpretare quella vicenda per dargli un senso storico e che abbia un uso, un utilizzo che sia utile a noi leggere e riflettere su quello che è accaduto misurando con la nostra situazione attuale che tutti noi stiamo vivendo e che vivremo nei prossimi anni. Quindi vi ringrazio per aver aderito a questa iniziativa e spero che, come tutti noi, che è finita l'emergenza sanitaria potremmo riprendere a frequentarci e a riprendere questi temi magari in forme un pochino più, come dire, più profonde, dove la relazione tra noi e voi sarà molto più profonda. Ringrazio tutti oggi e lascio la parola al mio collega Domenico Vitale. Grazie Marco, grazie Paola. Allora, prima di lasciare la parola a Matteo Petracci, lo introduco brevemente, introduco anche brevemente il suo libro, giusto due parole. Matteo Petracci è il dottorato in storia all'Università di Macerata, cultore della materia, ovviamente è autore di questo bellissimo volume che vi consiglio di leggere. Partigiani d'Oltremare ha anche pubblicato altri saggi, altri lavori storici. Vi consiglio tra i vari i matti del Duce, manicomi e repressione politica nell'Italia fascista, pubblicato da Donzelli, editore nel 2014. Tra le varie cose anche un escursionista ci teneva a sottolinearlo, quindi se siete dalle parti delle Marche vi va di fare un'escursione, Matteo Petracci è a disposizione. Per quanto riguarda invece il volume, io vi dirò due cose, anche perché poi Matteo ve lo racconterà bene. È un libro innanzitutto molto bello, da leggerlo si legge rapidamente, è una storia interessante ed è una storia che mette assieme molti temi, molti temi a cui noi siamo comunque legati come istituto. Ovviamente quello della resistenza, ma anche quello del colonialismo, da un po' di anni appunto con Parma per gli altri, stiamo portando avanti un progetto di costruzione di un archivio sulla memoria del colonialismo in provincia, non solo, che ha portato alla raccolta di molte storie, soprattutto molte immagini, molte fotografie ed è un progetto che in questi anni ci ha portato anche nelle scuole. Quindi questi due temi, colonialismo e resistenza, per noi sono molto interessanti. Il fatto che siano tenuti assieme in questo libro è un motivo in più appunto per essere oggi qui con Matteo Petracci. Vi dico solo qualcosa sulla modalità con la quale si svolgerà questo incontro. Voi avete, i spettatori hanno la possibilità di scrivere delle domande a Matteo Petracci, le potete scrivere sotto in basso, dovreste trovare l'opzione domande e risposta, oppure c'è la chat. Quindi io vi invito durante l'incontro a scrivere domande, riflessioni, quello che volete, perché nella parte finale poi le leggeremo e quindi le porremo direttamente a Matteo. Quindi mi raccomando, vi sollecito, vi invito a scrivere domande e riflessioni. Fatta questa introduzione, lascio la parola a Matteo e buon ascolto. Grazie, grazie Domenico, grazie all'Istituto Storico della Resistenza di Parma, all'Associazione Parma per gli Altri, al Comitato Civico 25 Aprile per questo invito. Come diceva il Dottor Minardi, sì, anche questo è il secondo 25 Aprile, che passiamo in maniera anomala rispetto a quello che eravamo abituati a vivere in passato, però ecco io siccome sono un inguaribile ottimista, vedo anche che la pandemia ci ha costretto a trovare delle soluzioni che in passato non avremmo mai immaginato e che ci permettono di entrare in connessione anche con, utilizzo questa espressione, con mondi lontani. Adesso io la settimana prossima dovrei presentare Partigiani d'Oltremare e una storia in particolare che riguarda una famiglia ebrea boema scappata da Praga dopo l'occupazione nazista che ha raggiunto qui le Marche e poi si è unita alla Resistenza e mi hanno invitato a presentare il libro, ovviamente in videoconferenza, però ecco questo qui probabilmente qualche anno fa non sarebbe avvenuto. Quindi ecco diciamo tendo sempre a guardare, ma non per fare un, non per entrare in contraddizione dialettica, semplicemente per lanciare diciamo anche un messaggio anche diciamo che invita a cogliere gli aspetti che comunque ecco nella trasformazione che siamo obbligati a vivere c'è anche qualcosa che secondo me può essere salvato poi dopo quando speriamo si tornerà, come è stato detto, il prima possibile alla normalità. Comunque ecco grazie veramente per l'invito, è un grande piacere, grazie soprattutto agli studenti e alle scuole che stanno partecipando e come ha detto Domenico che ringrazio, per me non è la prima monografia, io sono cultore della materia all'Università di Camerino, non all'Università di Macerata, all'Università di Macerata ho fatto il dottorato, ma finito il dottorato poi diciamo sono diventato cultore della materia all'Università di Camerino, lo dico perché è giusto dirlo, perché poi diciamo le cose sono andate così. Allora io andrei subito con la presentazione, se riuscite a dirmi se vedete quello che vedo io, cioè la mappa dell'Africa, benissimo, perfetto. Allora Partigiani d'Oltremare come è stato detto da Domenico tiene insieme vicende molto molto diverse, ma già dal titolo si comprende che i protagonisti della storia che ho cercato di ricostruire vengono dall'Oltremare, vengono dall'Africa, dal corno d'Africa per mezzo dire. È una vicenda che per essere pienamente compresa è vedere la necessità di fare un passo indietro di qualche anno rispetto all'inizio della Seconda Guerra Mondiale e poi all'inizio della Resistenza in Italia. Faccio soltanto questa premessa e mi permetto di rimettere l'immagine di Copertina, spero che si veda, solo per dire che io questa storia l'ho ascoltata per la prima volta quando ero nemmeno ventenne, quindi probabilmente avevo la stessa età di qualcuno che ci sta ascoltando adesso, e mi era stata raccontata da alcuni partigiani che facevano parte del gruppo ritratto in questa fotografia che si chiamava Gruppo Roti. E ovviamente guardando la foto all'interno della quale si vedono chiaramente tre uomini dalla pelle nera, in quel tempo ero un ragazzo, avevo tutti i capelli, ero anche riccio peraltro, mi sono chiesto decine e decine di volte ma come mai degli africani erano finiti nelle Marche nel 1943. Poi dopo ho fatto il mio percorso di studi, sono passati molti anni, ma questa domanda me la sono sempre portata dietro insieme ad altre domande, fino a quando nel 2013, quindi qualche anno fa, ho deciso di avviare questa ricerca. E appunto per capire come mai stavano nelle Marche bisogna fare un passo indietro e bisogna ritornare alla dichiarazione dell'impero. Come sapete nel 1935 l'Italia aggredisce l'Etiopia senza nemmeno dichiarare guerra perché erano africani, quindi erano considerati inferiori e quindi non godevano delle norme di diritto internazionale anche di guerra tra popoli bianchi europei, quindi la guerra non viene nemmeno dichiarata, viene condotta attraverso l'utilizzo di tonnellate e tonnellate di gas chimici che il governo italiano non ammetterà mai di aver utilizzato fino almeno agli anni 90 quando di fronte ai documenti tirati fuori da Angelo Delbocca smentire a quel punto è impossibile nonostante un'operazione giornalistica culturale condotta anche da Indro Montanelli volta a descrivere la guerra d'Etiopia come una sorta di opera di civilizzazione comunque la guerra viene condotta anche con gas chimici che erano stati messi al bando dalle convenzioni internazionali ma l'esercito italiano non ha nessun problema su ordine di Mussolini sgancia questi gas anche sopra i villaggi di civili ovviamente è una guerra condotta attraverso operazioni criminali dal punto di vista diciamo del controllo del territorio e dell'occupazione delle città delle rappresaglie e della repressione il fatto è che dopo aver occupato le maggiori città d'Etiopia viene dichiarato l'impero nel maggio del 1936 e a quel punto all'interno dei settori più oltransisti dello Stato all'interno del fascismo si fa strada all'idea di celebrare l'impero che comprendeva come vediamo l'Eritrea, l'Etiopia, la Somalia la cosiddetta Africa orientale italiana ma anche la Libia che era stata colonizzata già durante il periodo dell'Italia liberale perché la prima parte della colonizzazione della Libia comincia nel 1911 e anche l'Eritrea e la Somalia erano state colonizzate durante l'Italia liberale quindi il colonialismo non è che ha a che fare solo col fascismo ha a che fare proprio con la storia dei popoli bianchi europei ora si fa strada all'idea, dicevo, di celebrare il rinnovato impero italiano fascista e si decide nel 1940 di organizzare una grande mostra un'esposizione coloniale, una sorta di expo appunto per portare a conoscenza anche fisica anche grazie alla vicinanza fisica degli italiani la rinnovata forza coloniale dell'Italia viene scelta Napoli come città sede di questa grande esposizione coloniale per tutta una serie di ragioni perché Napoli doveva diventare la capitale amministrativa dell'impero per la sua apertura sul Mediterraneo e quindi verso appunto l'oltremare e tuttavia per rendere meglio visibile la magnificenza della forza italiana nelle colonie si decide di non portare soltanto a Napoli specie animali o floristiche come piante, palme, datteri alberi da frutto esotici oppure leoni, gazzelle, zebre e quant'altro si decide di portare anche donne, uomini e bambini in carne e ossa perché attraverso l'incontro con la diversità incarnata da queste popolazioni provenienti da territori molto lontani si vuole perseguire lo scopo di esaltare negli italiani che li vedevano un senso di superiorità razziale e di dominio cioè anche dal punto di vista come dire di autodefinizione del sé si fa molto prima a dichiararci per quello che non siamo invece di dire quello che effettivamente siamo allora attraverso l'incontro con questa diversità gli italiani potevano dire a se stessi di non essere così diversi di non essere inferiori di essere bianchi europei e di non essere neri era la diversità appunto che stimolava il senso di superiorità e di dominio vengono fatte arrivare popolazioni dall'Eritrea, dalla Somalia e dall'Etiopia ovviamente ma anche dalla Libia, dall'Albania, dal Dodecanneso da tutti i territori che erano stati conquistati o occupati sotto forma di protettorato dall'Italia la prima cosa che sono chiamate a fare queste donne e questi uomini appartenenti a questi popoli colonizzati è quella di realizzare i villaggi all'interno del quale poi sarebbero stati chiamati a esibirsi come animali in uno zoo tant'è che nella storiografia europea ma non solo queste esposizioni coloniali che prevedevano la partecipazione di donne e uomini in carne e ossa vengono chiamati proprio zoo umani e sono stati realizzati in tutta l'Europa fino a dopo la seconda guerra mondiale perché l'ultimo zoo umano credo viene realizzato in Belgio intorno alla metà degli anni cinquanta quando vengono esposti anche bambini ma non solo in Europa anche negli Stati Uniti dove venevano esposti i nativi americani e quant'altro. Dicevo queste popolazioni vengono chiamate innanzitutto a lavorare per realizzare i villaggi dove si sarebbero dovuti esibire in questa fotografia che mi è stata data dall'archivio della mostra d'oltremare si vedono benissimo dei somali o degli eritrei o degli etiopi che stanno lavorando alla costruzione dei tukul che erano le abitazioni tipiche di quei territori e ne vengono fatti arrivare in Italia dal corno d'Africa circa 70 anche in quest'altra foto si vedono mentre lavorano alla realizzazione delle capanne anche in questa ci sono anche dei bambini come dicevo prima e altro particolare lo vediamo in questa fotografia è che oltre ai civili che erano stati selezionati o direttamente dai governatorati in cui era stata suddivisa l'Africa orientale italiana oppure erano stati segnalati per l'ingaggio da faccendieri coloniali che dall'Italia si erano trasferiti nelle colonie dicevo oltre ai civili vengono fatti arrivare a Napoli anche circa 50 Ascari i soldati coloniali giovani appartenenti alle popolazioni colonizzate lo vediamo qui che scelgono di entrare a far parte delle truppe coloniali dell'esercito italiano anche come mezzo di ascesa sociale perché colonialismo italiano differentemente da altri colonialismi europei penso a quello britannico non prevede la costruzione o il mantenimento di elite locali alle popolazioni coloniali ad esempio non viene permesso di studiare oltre la quarta elementare proprio per mantenere basso il livello di alfabetizzazione e questi Ascari erano stati scelti tutti quanti per la loro prestanza fisica erano del corpo vicereale perché avevano compiti sia di sorveglianza verso i civili del villaggio indigeno sia anche di rappresentanza la mostra viene inaugurata il 9 maggio del 1940 da re Vittorio Emanuele III potete trovare un filmato su YouTube di due minuti e mezzo dove c'è un cinegiornale luce che racconta l'inaugurazione della mostra a un certo punto si vede Vittorio Emanuele III che non so se era alto un metro e sessanta o anche meno partà passare in rassegna questo squadrone di Ascari vicereali che erano tutti alti tra un metro e ottanta un metro e novanta e lì l'idea della superiorità della razza bianca diciamo viene un po' meno rispetto a quell'immagine comunque la mostra viene inaugurata il re è il primo a percorrere i viottoli della mostra comincia ad essere visitata da molti italiani secondo i giornali dell'epoca alla fine i visitatori sono circa 500 mila in questa fotografia che ho trovato su Wikimedia Common viene diciamo messa su immagine quella che era la fontana di luce che era una delle attrazioni non umane maggiormente visitata all'interno della mostra perché c'era anche molta tecnologia era stata diciamo messa in campo per migliorare l'effetto l'effetto scenico solo che la mostra che si sarebbe dovuta chiudere a ottobre del 1940 in realtà invece di sei mesi resta aperta un mese perché il 10 giugno del 1940 l'Italia entra nella seconda guerra mondiale l'Italia dichiara guerra a Francia e Gran Bretagna e la mostra viene subito chiusa per questione di sicurezza Napoli è una delle prime città che comincia a essere bombardata dal mare prima ancora che dal cielo e appunto per ragioni di sicurezza la mostra viene chiusa e mentre libici o albanesi vengono caricati in tutta fretta su dei piroscapi per essere ricondotti nei loro territori di provenienza per somali eritrei ed etiopi questo qui è impossibile perché il canale di Suez è controllato dalla marina britannica che ne impedisce il transito alle navi italiane dopo lo scoppio della guerra e quindi restano a Napoli non possono più rientrare a casa e in alcune lettere che loro hanno inviato al ministero dell'Africa italiana perché va detto che erano stati portati non come prigionieri erano stati scelti per rappresentare la potenza italiana nelle colonie quindi erano stati portati così si legge nei documenti come ospiti nelle lettere che loro inviano al ministero dell'Africa italiana perché molti di loro sapevano parlare l'italiano anzi ad esempio gli Ascari erano stati proprio scelti sulla base della padronanza della lingua perché dovevano svolgere anche il compito di interprete in queste lettere loro raccontano la situazione che vivono a Napoli raccontano innanzitutto del freddo perché le baracche di legno che erano state costruite per ospitarli quando non funzionava il villaggio delle esibizioni quindi dove passavano la notte erano baracche di legno circondate da filo spinato perché ovviamente era anche la rappresentazione plastica delle leggi razziali non potevano uscire dal campo di baracche al loro assegnato non è potevano circolare liberamente per Napoli c'erano le leggi razziali che prima vengono applicate per gli africani nel 1937 che vietano i matrimoni misti e poi dopo per gli ebrei nel 1938 e raccontano dicevo innanzitutto del freddo perché queste baracche di legno erano state progettate per essere smantellate a ottobre quindi non avevano riscaldamenti stufe a legno stufe elettriche e quando arriva il primo inverno nel 1940 entrano gli spifferi qualcuno s'ammala qualcuno muore di pleurite di tifo s'ammalano i bambini s'ammalano le donne e poi in queste lettere spiegano che cominciano a soffrire la fame perché le razioni di cibo si fanno sempre più scarse e anche questo contribuisce a debilitarli nel fisico sono diversi quelli che muoiono secondo i documenti fino a quando cominciano degli interventi volti a migliorare la loro situazione vengono messe delle stufe elettriche ma all'inizio non funzionano poi vengono sostituite si scopre che qualcuno qualche funzionario fascista diciamo ha preso più soldi rispetto a quello che ha speso per migliorare la situazione quando sentiamo dire che durante il fascismo non si rubava dobbiamo ricordarci che durante il fascismo si rubava come e più di adesso i fenomeni di corruzione erano molto diffusi sono usciti dei saggi molto importanti negli anni passati uno si chiama il fascismo dalle mani sporche curato da paolo giovannini e marco palla che racconta proprio di come la quanto la corruzione fosse diffusa durante il fascismo poi cominciano a raccontare questi somali eritrei ed etiopi in queste lettere cominciano a spiegare della fame dicevo prima che li debilita ma il problema più grande che vivono come con l'avanzamento della guerra è un problema che riguarda tutti gli italiani è legato ai bombardamenti perché napoli e sede di un porto militare e sede di impianti industriali e come ho detto prima comincia a essere bombardata sin da subito e con il proseguire della guerra i bombardamenti si intensificano napoli nel corso della seconda guerra mondiale sarà bombardata più di cento volte con ogni volta prima decine e poi centinaia e centinaia di morti per ogni bombardamento le bombe scoppiano vicino all'area delle baracche perché si trovavano la mostra d'oltremare che tuttora oggi c'è un quartiere sta da napoli andando da napoli verso roma nella nell'area flegrea quindi abbastanza vicino al porto al centro no e tant'è che a un certo punto le schegge delle bombe cominciano a colpire anche le baracche di legno sostanzialmente somali eritrei ed etiopi non hanno rifugio antiaereo viene chiesto ad un certo momento di poter permettere loro di usare il rifugio antiaereo cittadino vicino alla mostra ma questo viene impedito perché loro erano neri e nel rifugio antiaereo ci dovevano stare italiani bianchi allora si pensa di realizzare un rifugio antiaereo vicino alle baracche solo per loro però dopo viene spiegato che questo non è possibile perché il terreno non permette diciamo una resa efficace dal punto di vista della della realizzazione e poi c'è un altro problema che sembra secondaria ma in realtà queste persone restano all'interno di questo perimetro circondato dal filo spinato per tre anni sono permesse soltanto pochissime uscite e sempre e soltanto accompagnati da militari bianchi l'altro problema è l'inedia cioè questi stanno lì tutto il giorno e non possono far nulla non possono uscire non possono far nulla lamentano l'inedia e il loro non far nulla comincia ad essere lamentato anche dalle istituzioni locali c'è una lettera del prefetto di napoli in cui si spiega ma come questi sono stati portati in italia e dovevano lavorare alle esibizioni poi scoppiata la guerra stanno lì tutto il giorno senza far nulla mangiano bevono e dormono a sbafo e costano allo stato diverse centinaia di migliaia di lire l'anno per il loro mantenimento c'erano le lire non dicevano 35 euro al giorno dicevano centinaia di migliaia di euro l'anno ma è questo comincia ad essere lamentato a un certo punto allora la mostra la direzione della mostra decide di renderli produttivi e l'unico lavoro che viene loro permesso di fare è il lavoro delle comparsi al cinema perché durante la seconda guerra mondiale cine città continuava a funzionare i film di propaganda colonialista razzista antisemita anti americana continuavano ad essere prodotti e però non potevano più truppe italiane di cine città raggiungere il corno d'africa per girare film di stampo colonialista e razzista utilizzando il materiale umano del corno d'africa attori o comparsi dal corno d'africa non potevano più venire in italia e allora si usano sia i prigionieri sudafricani del campo di cine città di roma ma anche i somali eritrei ed etiopi che stavano alla mostra delle terre d'oltremare vengono ingaggiati per circa otto film uno l'ho trovato online su rai play si chiama harlem una storia di pugilato è un film di stampo antisemita e di critica alla società multietnica statunitense oltre a essere ovviamente un film di tipo razzista e suprematista bianco e tutte le volte che in questo film vediamo un nero ecco quello lì è o un prigioniero sudafricano vicino città oppure un somano un eritreo un etiope della mostra delle terre d'oltremare la mostra dietro a questi film percepisce dei soldi pagati dalle case di produzione cinematografica e questi soldi servono diciamo a acquietare un po le lamentele che provenivano dalle istituzioni napoletane proprio per il non far nulla di queste persone all'interno delle baracche di legno comunque come dicevo il problema più grande è sempre costituito dai bombardamenti ci sono degli episodi di insubordinazione che vengono puniti sia attraverso punizioni corporali sia attraverso il carcere qualcuno ad esempio tra gli etiopi viene condannato al carcere per aver contravvenuto ai regolamenti per aver provato a scappare uno riesce a scappare dall'area delle baracche fa perdere per un giorno le sue tracce nella zona di bagnoli e poi dopo viene riacciuffato e viene condannato al carcere prima però viene picchiato diciamo dagli stessi ascari comunque il problema più grande sono i bombardamenti fino a quando una bomba cade all'interno dell'area delle baracche resta miracolosamente inesplosa e però si decide dopo quell'episodio di spostarli non solo perché i bombardamenti avrebbero potuto uccidere queste persone considerate che dopo che gli anglo americani cacciano dal nord africa i tedeschi tedeschi e l'esercito italiano inviato all'area dal fascismo vengono installate piste di lancio sulle coste e da lì partono le fortezze volanti che siccome volano molto alte possono sfuggire alla contraerea e se non ricordo male vengono utilizzate per bombardare anche di giorno quindi progressivamente i bombardamenti aumentano dicevo i bombardamenti rischiano non solo di ucciderli ma nel caos dei bombardamenti qualcuno avrebbe potuto decidere di scappare sì veramente far perdere le proprie tacce perché napoli anche allora era aveva un'area metropolitana molto densamente popolata e quindi si decide di spostarli nelle marche e si decide di portarli a treia che è questa piccola cittadina distesa su questo crilale di una collina perché a treia c'era un campo di internamento femminile il campo di villa la quiete detta villa spada che aveva funzionato dicevo come campo di internamento femminile fino al dicembre del 1942 era stato realizzato all'interno di una villa nobiliare il nobile continuava a riscuotere i soldi dell'affitto pagati al ministero dell'interno per tenere imprigionate donne appartenenti ai cosiddetti paesi nemici francesi polacche ebrei straniere donne britanniche donne russe poi la croce rossa aveva stabilito che non c'erano le condizioni igieniche sanitarie adeguate il campo era stato di uso ma il nobile che era un conte attraverso le sue intrature presso il ministero dell'africa italiana riesce a farlo riaprire per gli africani e quindi gli africani vengono portati qui e arrivano l'otto aprile del 1943 dopo un lungo viaggio in treno da napoli fino a roma e poi da roma fino alla stazione di macerata poi vengono caricati su un torpedone un camion e vengono portati qui a treia passano alcuni giorni e dalla lettura dei documenti si capisce che la loro situazione a treia era un po' migliore rispetto a napoli questa zona era stata scelta anche per la realizzazione di molti altri campi di internamento e prigionia lo vedremo meglio più avanti perché era una zona dell'italia centrale scarsamente popolata popolata per lo più da contadini che si ritenevano appartenere a una popolazione pacifica tendenzialmente chiusa in se stessa e non molto propensa diciamo alle novità le marche e principalmente la provincia di macerata erano lontane da grandi vie di comunicazione come grandi ferrovie porti confini erano lontane dai confini e non c'erano grandi agglomerati urbani quindi si pensa che qui si può meglio controllare gli internati e i prigionieri e quindi anche questi africani però dicevo dai documenti si scopre che la loro presenza a treia è un po' migliore dal punto di vista della sorveglianza la loro vita perché comincia ad essere permesso loro di uscire con maggiore frequenza sempre accompagnati da militari italiani ma potevano uscire prima dell'alba e scusate dopo l'alba e dovevano rientrare prima del tramonto e raggiungere il borgo come ho detto prima molti di loro parlavano italiano e attraverso la conoscenza della lingua entrano in rapporto con la popolazione locale e questo lo so perché ho intervistato degli anziani treiesi di 94 92 anni che sono che allora ne avevano 15 16 quindi avevano un'età in grado di aver formato un ricordo diciamo concreto entrano in contatto con la popolazione vanno da qualche contadino a comprare qualche pecora per poter mangiare il medico del paese li va a visitare una volta a settimana qualcuno di loro entra proprio in rapporto con qualche ragazzino nonostante le leggi razziali però ripeto sempre accompagnati da militari bianchi questa foto è una foto d'epoca di villa spala loro erano internati qui nella parte diciamo più massiccia e la villa era tutta circondata da un muro perimetrale che la isolava rispetto all'esterno dicevo entrano in rapporto con la popolazione e grazie alle informazioni raccolte dalla popolazione vengono a sapere dei rovesci militari vengono a sapere dell'arresto di Mussolini il 25 luglio del 1943 nei documenti di polizia si può leggere che i sudditi coloniali dall'estate del 1943 si fanno più irrequieti e l'estate del 1943 coincide con l'arresto di Mussolini e vengono a sapere con l'otto settembre la fuga notturna del re e di tutti i più alti comandi militari che lasciano oltre 600.000 soldati italiani senza ordini per mettere in salvo la loro pelle e raggiungere il sud vengono a sapere che con la fuga del re e la liberazione del sud Italia da parte degli angloamericani moltissimi prigionieri dei vari campi distribuiti nel territorio stavano scappando per raggiungere le montagne o questo massiccio che vediamo alle spalle dove spicca questo monte il monte San Vicino oppure i monti Sivillini che sono diventati dei veri e propri luoghi di rifugio per centinaia e centinaia di prigionieri e internati donne e uomini stranieri che dopo l'otto settembre hanno preso la fuga e hanno trovato nelle montagne che circondano questo territorio il loro rifugio a quel punto tre etiopi decidono di scappare all'inizio di ottobre del 1943 da Villa Spada raggiungono questo massiccio del monte Agudo restano qui per qualche settimana poi scappa un quarto etiope li raggiunge e insieme decidono di spostarsi sul monte San Vicino la loro fuga è stata possibile grazie sicuramente all'apporto della popolazione dico questo perché perché i tedeschi arrivano a Macerata il 16 settembre del 1943 e il capoluogo di provincia diventa sede della Militar Commandatur nonostante non fosse il capoluogo regionale perché Ancona che è il capoluogo regionale ospitava il porto quindi era sottoposto a costanti bombardamenti i tedeschi insediano il loro comando regionale a Macerata il 16 settembre del 1943 e da quel giorno il territorio comincia ad essere tappezzato con manifesti come questo in italiano e in tedesco dove si promettevano 1800 lire a chi faceva ricatturare un prigioniero evaso oppure se minacciava la fucilazione e la distruzione della casa a coloro che invece li nascondevano ora nei diari dei soldati britannici che ho letto perché scappati dai campi della zona si fa sempre riferimento come sapete benissimo al fatto che una delle prime cose che veniva fatta dopo la fuga era raggiungere una casa di contadini e farsi dare dei vestiti per poter togliere la divisa del campo e confondersi questo per un inglese è possibile per uno scozzese è possibile per un somalo anche vestito da contadino questo qui è impossibile siccome io come diceva Domenico sono anche guida escursionistica io faccio dei cammini da Villa Spada fino al Monte San Vicino e vi posso garantire che se non ci fosse stato il supporto della popolazione sarebbero stati scoperti ok perché comunque i fascisti e i nazisti giravano perché comunque c'erano case e fino ad arrivare a questa zona che è più boscosa il resto è una zona abitata quindi grazie all'aiuto della popolazione raggiungono il Monte San Vicino ed entrano in contatto con una formazione partigiana guidata da questo istriano che si chiamava Mario de Panger internazionalista comunista esilia cioè era andato in esilio dopo il confino prima a Vienna poi a Parigi poi a Mosca poi era rientrato in Italia per delle missioni clandestine per conto del partito comunista e era stato poi arrestato e condannato a sette anni di carcere e poi internato a San Severino Marche insieme alla moglie. De Panger aveva dato vita a una formazione partigiana molto particolare perché all'interno della sua formazione si parlavano otto lingue diverse e si professavano tre religioni tra coloro che erano credenti e adesso vedremo in alcune fotografie. La presenza di moltissimi stranieri come dicevo è data dalla presenza nella regione di moltissimi campi come vedete nella provincia di Macerada che è questa qui c'è la più alta concentrazione perché c'era una ferrovia che la attraversava in mezzo e quindi era funzionale ai campi di prigionieri di internamento per portare i prigionieri e gli internati è distante da Ancona e oltre a questi campi in provincia di Macerada c'erano 31 località di internamento libero e il territorio del Monte San Vicino sta qui nella parte nord ovest della provincia. Dopo l'otto settembre i prigionieri di questi campi non tutti ovviamente ma centinaia scappano e si dirigono verso il Monte San Vicino che siccome è alto 1500 metri quindi non altissimo ma è circondato da cime che raggiungono si e noi mille metri spicca quindi fa da punto di riferimento geografico. Ok? De Panger diventa l'animatore di questa banda che chiamiamo dal forte carattere internazionale perché non solo aveva una esperienza di combattente internazionalista ma anche perché siccome era stato a Vienna, Parigi e Mosca era di origine slovena poi trasferito a Muggia parlava cinque lingue perché sapeva il tedesco, il francese, il russo, l'italiano e lo sloveno e probabilmente conosceva anche il serbo croato. Questo qui lo rende diciamo in un certo senso l'uomo giusto nel posto giusto. Arrivati da De Panger i quattro etiopi scappati da Villa Spada di cui qui vediamo una planimetria raccontano che a Villa Spada c'erano altri africane che si sarebbero potuti unire alla banda, raccontano il loro percorso e raccontano che questo è quello che alle orecchie di De Panger è suonato più forte perché la banda era in corso di costituzione e quindi aveva bisogno di armi, raccontano che nel presidio militare che risorvegliava c'erano circa venti fucili mitragliatori breda e casse di munizioni. A quel punto De Panger invia una quindicina di partigiani inglesi, italiani e jugoslavi guidati da uno dei quattro etiopi, gli altri erano rimasti nella sede dove stava De Panger con la minaccia di essere fucilati qualora si fosse trattato di una trappola, invece non era una trappola, c'è uno scontro a fuoco che finisce in maniera positiva per i partigiani, altri otto somali ed etiopi decidono di unirsi ai partigiani, le armi e le munizioni vengono portate via. A quel punto si rifanno a piedi la strada che li aveva condotti dal Monte San Vicino fino a Villa Spada, vengono distribuiti in due sedi di staccamento, una nel borgo di Valdiola, una nell'Abbazia di Roti e vengono scattate queste fotografie. Questa è la prima, vedete c'è un prete con la pistola, Don Enrico Pocognoni, questo è un italiano, Qualtiero Simonetti, quest'altro con la pistola e un reduce di Spagna, Francesco Porcarelli, aveva portato degli aiuti ai brigati internazionali, poi ci sono degli inglesi come, c'è uno scozzese Douglas Davidson, inglesi come Anthony Payne e altri, però una foto scattata come vedete mentre qualcuno armeggia, qualcuno è di spalle e gli africani, tre, Mohamed Raghe, Turnur e Aden Shear e Jama stanno un po' in disparte. Allora il fotografo chiede loro di redistribuirsi, di mettersi in posa diremmo no? E non solo si mettono in posa ma si distribuiscono anche dal punto di vista cromatico, cioè gli africani non stanno più in disparte, uno sta qui a Aden Shear e Jama, Mohamed Raghe, Turnur, tra loro si abbracciano, no? Questa foto è stata scattata tra la fine di ottobre del 43 e la metà di novembre, dico questo perché questo che vediamo qui in mezzo col cappello si chiamava John Cotan e nel suo diario di guerra che io ho ritrovato nel 2011 è uscito, l'ho ritrovato qualche anno dopo, racconta che lui, Anthony Payne e John Fain lasciano il gruppo dell'abbazia di Roddi il 20 novembre, Aden Shear e Jama e gli altri due africani sono arrivati dopo l'azione fatta a Villa Spada che è stata fatta il 28 ottobre, quindi significa che questa foto è stata scattata non oltre la metà di novembre. Il territorio è stato liberato il primo luglio del 44, quindi tra le varie domande che mi sono fatto, come c'erano finiti questi neri, c'era anche la domanda ma perché perdere tempo a scattare delle fotografie? Soprattutto perché rischiare di nascondere queste fotografie per otto mesi? Perché qualcuno questa foto da novembre fino al primo luglio l'ha nascosta rischiando di essere torturato prima ancora che fucilato, perché se durante un rastrellamento questa foto fosse stata trovata i fascisti e i tedeschi avrebbero torturato il possessore per farsi fare i nomi e i luoghi e poi probabilmente lo avrebbero fucilato. Per rispondere a questa domanda bisogna guardare quest'altra fotografia che è molto simile, anche questo è un distaccamento della banda Mario, c'è un ebreo, Mosè Di Segni, per questo dicevo tre religioni perché c'erano cristiani, ebrei e musulmani perché i somali erano musulmani. Anche qui c'è un prete, Dolino Ciarlantini, italiani come Bruno Taborro che ho conosciuto e intervistato più volte, etiopi come questo in mezzo, russi, Sergei Cernievev, Stefan Ponomarenko e anche qui croati come Frane Tralaia, altri italiani, altri montenerini, eccetera. Questa foto mi ha raccontato Bruno Taborro, in realtà non è una foto, è la seconda foto di una sequenza. Diciamo questa foto è stata scattata al momento X più 1, perché al momento X è stata scattata questa fotografia qualche secondo prima, che è la stessa foto, stesse persone, stesso caseggiato alle spalle, ma l'etiope stava dietro, lo vedete? Quando si rendono conto che l'etiope passava dietro e si era fermato perché aveva visto i propri compagni scattarsi una foto, lo chiamano e lo fanno mettere in mezzo, sotto a un ebreo e fra due sovietici, cioè riscattano la foto, consumano altra pellicola, fanno passare altro tempo. Questo qui perché io ritengo, come facciamo oggi quando ci facciamo i selfie e poi li pubblichiamo su Instagram, Telegram, Facebook e quant'altro, prima di rendere pubblica la foto noi andiamo a guardare l'anteprima, no? Per vedere se siamo venuti al meglio e noi oggi ci possiamo fare centinaia di fotografie al giorno. Queste persone nella loro vita sapevano benissimo che, perché funzionava così negli anni 40, uno si poteva fare tre, quattro fotografie, la nascita di un figlio, la partenza per il militare, un matrimonio, la foto segnava un evento importante, quindi ci si metteva il vestito buono per fare la fotografia. queste persone il vestito buono non ce l'avevano perché erano vestiti come straccioni, però volevano restituire un'immagine di loro stessi che li raccontasse al meglio e siccome avevano ben chiaro quello che stavano facendo, perché Hitler lo aveva spiegato nel Mein Kampf, il suo obiettivo era costruire un nuovo ordine mondiale basato sul razzismo, la sopraffazione, il dominio, il razzismo, le razze ariane che dovevano dominare, soggiocare, fino ad eliminare le razze considerate inferiori, secondo i progetti di Hitler, i popoli slavi dovevano essere assoggettati come schiavi e lavorare per i tedeschi ariani, gli africani lo stesso, gli ebrei, l'Europa doveva essere liberata dagli ebrei, bene questi partigiani che stavano combattendo contro il nuovo ordine mondiale che Mussolini e Hitler volevano instaurare richiamano l'Etiope e lo fanno mettere in mezzo e ci stanno dicendo come loro vogliono il mondo, ci stanno dicendo per quale tipo di il mondo loro stanno combattendo, ci stanno dicendo per quale tipo di patria loro stanno combattendo. Questa sequenza e queste fotografie, lo dico sempre, per me rappresentano un'anticipazione dell'articolo 3 della Costituzione italiana, scritto qualche anno dopo, ok? Andando avanti, senza che sto a fare qui la storia della resistenza nel nostro territorio, chi vuole poi lo leggerà, un momento segna la banda Mario, è il rastrellamento del 24 marzo del 1944, portato dai tedeschi e dai fascisti nella zona del Monte San Vicino, in grandissime forze, il prete che abbiamo visto prima nella fotografia, Don Enrico Pogognoni viene fucilato, questo qua, vengono fucilati anche Turnur e Mohamed Raghe, vengono fucilati anche altri partigiani italiani, tuttavia il rastrellamento per i tedeschi e per i fascisti finisce male perché tutte le formazioni partigiane del Monte San Vicino riescono a dar manforte al gruppo di Depanger e i tedeschi e i fascisti nel tardo pomeriggio vengono ricacciati indietro. A quel punto Depanger, che oltre a essere un capo politico era un capo militare, spezzetta la sua banda in tanti piccoli gruppi, ormai erano più di duecento tra donne e uomini, gli spezzetta in tanti piccoli gruppi in maniera tale da rendere più facile l'eventuale sganciamento e fa sistemare il gruppo più grande di circa cinquanta combattenti in questo borgo arroccato che è il castello di Elcito a 824 metri sul livello del mare. Allora, come si vede in questa fotografia, questa l'ho scattata durante un'escursione, si poteva raggiungere il castello di Elcito soltanto attraverso questa mulattiera che non permetteva il passaggio di mezzi pesanti se non qualche motocicletta. Voi immaginate partendo da sotto per attaccare il Cito, diciamo era abbastanza complicato, tant'è tutt'oggi se uno volesse occupare il castello del Cito per portarlo via ci vorrebbe l'aviazione immagino. Allora ancora di più, quando i tedeschi e i fascisti il 26 aprile del 1944 tentano un secondo rastrellamento, da Elcito ancora una volta i partigiani e le partigiane di The Panger attraverso due mitragliatrici ricavate da un aereo britannico che le aveva sganciate, erano due mitragliatori pesanti, riesce a ricacciarli indietro e ancora una volta diciamo si salvano per così dire. La resistenza va avanti fino al primo luglio del 1944 fino a quando San Severino, Marche, che era la città dove The Panger e gli altri erano stati internati, viene liberata, questa è una fotografia che ritrae la popolazione nella piazza principale, mentre in attesa, questa è un'altra foto scattata nel giorno della liberazione con anche alcune partigiane, la popolazione era in attesa di Mario The Panger per il discorso del giorno della liberazione. The Panger verrà nominato sindaco dal Comitato di Liberazione Nazionale di San Severino Marche e i polacchi della Brigata Magliella arriveranno il giorno dopo, il 2 luglio del 1944. Tornando agli africani, The Panger comincia a produrre tutta una serie di attestati che testimoniano la loro partecipazione alla resistenza, questo è dell'11 luglio del 1944 e troviamo i nomi dei superstiti perché non troviamo i nomi dei caduti. Tra i caduti dicevo Mohamed, Raghe e Turnur, che abbiamo visto prima nella fotografia, e anche Carlo Abba Magal. Abba Magal era un etiope che muore per primo il 24 novembre del 1943 e viene sepolto in montagna. Il corpo viene recuperato dai partigiani e viene sepolto in montagna. Poi dopo la liberazione i corpi dei partigiani stranieri sepolti in montagna vengono recuperati e portati in diversi cimiteri e seppelliti. Solo che Carlo Abba Magal era stato seppellito senza nome, quindi si erano perse le tracce. Parlando con Bruno Taborro, quel partigiano che vi ho fatto vedere prima nella fotografia, Taborro mi raccontò che gli stranieri erano stati seppelliti tutti insieme, secondo il suo ricordo. Ho cominciato a girare per cimiteri, questo per fare una connessione con il presente, parlando con persone del posto, con custodi del cimitero, guardando i registri parrocchiali, i registri cimiteriali e alla fine ho trovato una fotografia di un libro degli anni 60 scritto da Giuseppe Mari, un partigiano marchiciano, sulla resistenza degli jugoslavi nell'Italia centrale, con una fotografia dove c'era scritto qui sono stati seppelliti i partigiani jugoslavi che sono morti a San Severino Marche. Siccome Taborro mi aveva raccontato che gli stranieri erano stati seppelliti tutti insieme, ho pensato se lì c'erano gli jugoslavi, lì c'è Carlo Abba Magal. Riparto per i ciri dei cimiteri fino a che non trovo una tomba appartenente a una confraternita, uguale a quella nella fotografia, ho chiamato il priore della confraternita, ho spiegato quello che stavo facendo, la tomba è stata aperta e dentro miracolosamente intatta abbiamo trovato una bara di legno con la targa in zinco e la scritta Carlo Abba Magal 24 novembre 1943. È stata organizzata una cerimonia con il comune di San Severino Marche, il consolato di Etiopia, è stata scoperta questa lapide nella parte monumentale del cimitero e sono state scritte queste parole che a me piacciono molto, Carlo Abba Magal, Carlo era il suo nome di battaglia, Etiope, partigiano del battaglione Mario di San Severino Marche, insieme ad altri uomini e donne provenienti da tutto il mondo, caduto per la libertà d'Italia ed Europa. Come diceva il dottor Minardi prima, il 25 aprile è una data che riguarda il nostro passato ma inevitabilmente ha a che fare sempre con il nostro presente. Ecco, io ritengo che nel 2014 o anche oggi ricordare che anche degli Etiopi, dei Somali, delle persone provenienti dal sud del Mediterraneo sono morte per la libertà d'Italia ed Europa è qualcosa che ci suggerisce una riflessione sull'oggi. Andando avanti, chiudo sulle connessioni, dopo aver fatto questa scopertura di questa lapide, ho contattato insieme ad alcuni amici il collettivo di scrittori Vuming perché sapevo che Vuming 2 si era interessato in passato alla storia di Abba Magal. Io ho detto che avevo ritrovato il corpo. Abbiamo organizzato un laboratorio di scrittura portando dei documenti che io già avevo trovato perché ho sempre socializzato i documenti che ho trovato, mese dopo mese, anno dopo anno, perché sono convinto della ricchezza che può portare la circolarità alla ricerca. Abbiamo organizzato un laboratorio di scrittura e per promuovere questo laboratorio sono stati fatti dei post sul blog dei Vuming che è JAP. In questi post sono state messe le fotografie che abbiamo visto. Passa del tempo, nell'ottobre del 2017 mi arriva questa fotografia con un'email, e questo volto cerchiato da Londra, una donna mi scrive e mi dice mi chiamo Sukri Adenshire Giamma. Sono la figlia del partigiano Adenshire Giamma che ho riconosciuto in questa fotografia. Mio padre è morto nel 1973, io ero molto piccola, ricordo i suoi racconti di essere stato partigiano in Italia, ma io non mi sono mai fatta dire, perché ero piccola, dove effettivamente avesse combattuto. Voglio venire nelle Marche per conoscerla e per conoscere i luoghi dove mio padre ha fatto il partigiano. È venuta qui Sukri prima nel novembre del 2017, poi il 25 aprile del 2018. Questa è Sukri con il marito Omar in una foto scattata durante le celebrazioni della liberazione nel punto che ricorda la battaglia di Val Viola, quella di cui abbiamo parlato prima, quando per la prima volta i partigiani e le partigiane di Epanger ricacciarono dietro i tedeschi. E questa qui è una foto del 25 aprile 2019, questa che vediamo è la nipote di Adenshire Giamma, la figlia di Sukri, che tiene uno dei discorsi ufficiali durante le celebrazioni del 25 aprile. Come ricorderete questa è la provincia dove c'è stata la strage del neofascista Luca Traini nel 2018, perché non esiste una tentata a strage, esiste il reato di strage. Quando un sabato mattina questo neofascista ha cominciato a sparare a caso verso persone dalla pelle nera solo perché avevano la pelle nera, ecco, aver portato la figlia e la nipote di un partigiano somalo in questo territorio a raccontarci i ricordi del padre e del nonno rispetto alla partecipazione alla resistenza in Italia, io credo che sia stata una delle più grandi soddisfazioni che questa ricerca mi ha ridato indietro. Scusate l'ho fatta lunga, però ci tenevo a dire tutto. Grazie. Grazie mille Matteo, è stato veramente interessantissimo, ti ringrazio a nome di tutti perché è stato veramente bellissimo, gli avevo letto il libro e la storia era già, diciamo, utilizzerei il termine pazzesca, poi raccontata da te è stato veramente interessantissimo, un sacco di stimoli, un sacco di temi affrontati. Allora, io adesso abbiamo ancora una ventina di minuti, ti faccio qualche domanda, nel frattempo chiedo ai presenti, agli studenti o agli insegnanti o chiunque sia presente, di fare delle domande nel caso. Chiedono come si chiama il libro, allora, il libro è Partigiani d'oltremare, dal corno d'Africa alla resistenza, è pubblicato da Pacini Editore, pubblicato nel 2019, e ve lo consiglio, perché veramente, come avete capito dalla relazione, veramente merita assolutamente di essere letto. Io volevo chiederti, facendo vedere il libro, ho perso il segno di quello che volevo un attimo leggere, arrivo subito, perché uno dei temi più interessanti che secondo me è affrontato è il discorso, diciamo, di ciò che rappresenta questa banda, rappresenta il rovesciamento di quella che era la società fascista e nazista, questo è uno dei temi più interessanti, è una banda che ha all'interno otto nazionalità, tre religioni, è praticamente il rovesciamento di quello che era il progetto fascista e nazista. E volevo leggere la citazione che tu riporti, che secondo me è molto bella, che è una sorta di manifesto di Franco Cingolani, che appunto era un comandante partigiano della banda, che lui vent'anni dopo tu riporti, lui fa questo discorso, celebrando e commemorando gli eventi della Resistenza. E ricordando la banda maria lui dice sentiamo ancora il calore che ci affratellava, anche quando qualcuno cercava di opporci, di dividerci, di separarci, quando nulla poteva dividerci, quando la passione, l'ideale, il futuro, era in ciascuno di noi così limpidamente configurato, che non resta difficile ritornare ai momenti più significativi di quelle giornate, di quelle serate, quando i colloqui in italiano, in slavo, in russo, in inglese, in somalo, erano talmente comprensibili in un meraviglioso ricomporsi di una lingua universale, che solo la fratellanza umana poteva rendere possibile. Io credo che questo passaggio è un manifesto, immagino che racconti questa banda, ma possa essere un manifesto di questa storia, di ciò che rappresenta. e ti volevo chiedere, appunto, da punto di vista anche pratico, tutte queste lingue, tutte queste... cioè, come si interfacciavano tra di loro, che lingua parlavano, cioè, come facevano a capirsi, se poi effettivamente, anche nel tempo libero, cioè, era... si vivevano tra di loro, poi si dividevano in nazionalità. Allora, grazie per la citazione, innanzitutto. La questione della lingua è molto interessante, come dicevi tu. Sarò telegrafico. Allora, la lingua prevalente era l'italiano, perché somali ed etiopi lo conoscevano, abbiamo detto prima. Gli inglesi, gli scozzesi, i montenegrini, i croati, i serbi, che erano internati nei campi del territorio, erano già diversi anni che vivevano prigionieri in quei campi, e quindi qualcuno di loro, qualche parola di italiano, la conosceva, ok? Così, le donne e gli uomini stranieri che avevano imparato qualche, diciamo, elemento di italiano, durante il periodo di prigionia. Tuttavia, la banda era una banda mistilingue, proprio per le nazionalità diverse rappresentate. E come possiamo dire che molti stranieri conoscevano l'italiano, perché erano, cioè, gli inglesi, ad esempio, c'è il libro di Roger Absalom, La strana alleanza, tra prigionieri fuggiaschi e contadini, che racconta proprio come gli inglesi sin da subito cercavano di imparare la lingua, sin dai primi giorni di prigionia, perché conoscere la lingua avrebbe facilitato la fuga, no? Questo vale anche per gli uoslavi. Ora, però, dicevo, come possiamo dire che molti stranieri conoscevano l'italiano? molti partigiani parlavano più lingue. Abbiamo detto prima, De Panger conosceva il tedesco, il francese e il russo, ok? C'erano ex soldati, c'erano soldati italiani, militari, che avevano partecipato alla guerra d'occupazione in Jugoslavia e quindi portavano nell'esperienza, di quell'esperienza, portavano l'apprendimento di qualche possibilità linguistica. Quel Bruno Taborro che ho intervistato più volte, quello era un contadino prima della Resistenza, ha fatto il contadino dopo, ma sapeva parole di serbo croato e quando le ha imparate? Le ha imparate durante la Resistenza. Lo stesso Cingolani racconta, quello che hai letto tu, che quando nel suo distaccamento arrivano due russi che erano scappati da poco più a nord, perché erano stati portati dai tedeschi come lavoratori forzati a costruire le fortificazioni nella linea gotica, riescono a scappare e poi si fanno un pezzo d'appennino a piedi e arrivano sul San Vicino, Cingolani racconta che questi due russi non sapevano nessuna parola di italiano, lui non conosceva il russo, allora passano i primi due giorni a scrivere parole in italiano e in russo per scambiarsi diciamo dei rudimenti di linguaggio necessari in quei primi giorni a vivere e a combattere insieme. Quindi ecco, sicuramente è una banda mistilingue, a me mi piace anche pensare, per quanto l'italiano sia prevalente, a me piace anche pensare che nella pratica quotidiana lo scambio di competenze e di esperienze perché i particiani italiani che io ho intervistato sapevano ad esempio che drug e comrade significa compagno in serbo-croato e in inglese. A me mi piace pensare che lo scambio quotidiano di esperienze e di competenze in più lingue abbia permesso anche la realizzazione di una sorta di esperanto, un esperanto particiano costruito dal basso, giorno dopo giorno. Grazie Matteo. Non so se Marco Paola se volevi intervenire. Sì, non voglio portare via tempo se c'è qualche domanda. No, volevo intanto complimentarmi con Matteo Petracci non solo per il libro che ho letto ma soprattutto per l'esposizione che ci ha accompagnato in una delle tante storie che poi alla fine hanno costituito la lotta di liberazione. Io mi accorgo sempre di più che quel periodo che spesso la storiografia trascura un po' perché mancano le fonti, un po' perché è complicata, cioè quel dei primi sei mesi della resistenza, ma che sono i mesi nei quali si forma quel gruppo di volontari che diventerà poi il movimento partigiano, perché dentro quel periodo si legge, si riesce a leggere in trasparenza da dove vengono, chi sono, il perché si trovano lì e questo è sempre molto affascinante e la resistenza ci restituisce credo due cose che potrebbero sembrare a noi ormai banali ma allora non lo erano e cioè il formarsi di queste questi gruppi di resistenti, di fuggiaschi, di ancora non si sa bene cosa saranno, se rimarranno, se si trasferiranno in altre zone, ci restituisce l'ingiustizia del fascismo e la ripressione della guerra, perché in fondo loro si trovano lì per quello, cioè la loro la loro presenza è dovuta a a tutte l'ingiustizia che la chi ha vissuto in Italia e non solo in quei vent'anni ha prodotto e ciò che la guerra comporta e cioè l'esclusione, la separazione, la divisione, il fatto che uno era il cittadino inglese che lavorava in Italia di fatto si trovava in un campo di concentramento e gli etiopi vabbè l'avete ascoltato perché si trovavano lì, prigionieri di guerra catturati una volta finita la guerra l'8 settembre si ritrovano trovano nel rischio si è ripresi questa volta dai tedeschi e quindi sono costretti a fuggire a cercare di stare alla macchia o raggiungere le forze alleate le bande partigiane che si formano i partigiani fuggono da qualcosa e hanno dentro di sé quegli elementi di ingiustizia che li porta a ribellarsi ecco questi elementi in quella prima fase sono sono trasparenti si vedono e che però col proseguo della resistenza poi la forte pregnanza ideologica l'appartenenza a un partito la militarizzazione e tutte cose che sono poi servite per arrivare alla fine e costruire qualcosa di diverso ecco all'inizio sono molto se non individuali a volte non sono neanche ben chiare però a noi diventano chiare perché li vediamo e capiamo il perché nasce la resistenza nasce attraverso l'esperienza accumulata negli anni precedenti e è quella che perché devono vivere il presente che li costringe anche a fare delle scelte ma delle scelte drastiche allora questi racconti perché poi alla fine all'inizio la resistenza è fatta di tanti racconti ci dà l'idea di chi erano le persone che hanno combattuto prima ancora di vestire divise un po' strane di chiamarsi con nomi di battaglia formarsi in gruppi più o meno militari prima di essere quelli sono persone che hanno vissuto l'ingiustizia la ripressione e la costrizione a ruoli e a modalità di vita che non che non accettavano e forse lì sta l'anima iniziale di quel corpo del volontario della libertà io non so se Matteo è d'accordo e anche Domenico e Paola e tutti voi però credo che sia la parte molto forse meno storiografica ma certamente molto molto affascinante cioè capire il perché le persone poi fanno scelte razionali ma da esperienze che non sono solo quantificabili con un calcolo razionale se posso condivido moltissimo quello che adesso Marco hai detto volevo ringraziare comunque per la relazione Matteo Petracci perché è stata una rivisitazione una narrazione del suo libro che è stata veramente emozionante e quindi io credo davvero che sia riuscito a trasmettere a noi e oggi quello e ai lettori chiaramente tutta questa parte che è fondamentale per leggere e per capire che cosa è stata la resistenza le ingiustizie dalle quali si è partita mi ha colpito chiaramente un po' un po' per conoscenza di quel mio legame un po' con l'Etiopia quelle immagini che ci sono state di questi etiopi somali eritrei portati a Napoli per fare la costruire le loro le loro case sono di una violenza in qualche modo che è come posso dire ancora più violenta di quello che può essere davvero un qualche cosa di fisico e che per forza in queste persone ha lavorato negli anni e poi li ha accumulati alle altre esperienze di altre persone non voglio portare via altro tempo rispetto a chi può o chi vuole ancora intervenire ma credo davvero che sia stata una lettura particolarmente intensa e una rilettura di fasi storiche importante grazie Paola e Marco intanto leggo una riflessione che ha scritto un ragazzo uno studente che ha scritto in chat visto la storia che ci ha raccontato Petracci il messaggio che mi dà è quello che anche oggi dobbiamo stare uniti essere più forti aiutare i più deboli volevo chiederti una cosa Matteo innanzitutto io ho una delle riflessioni più interessanti che ho trovato all'interno del tuo volume e il valore aggiunto che questa resistenza ha avuto per questi etiopi eritri somali che hanno partecipato alla resistenza nel senso che loro potevano come dici tu nel libro benissimo aspettare che gli alleati arrivassero non era richiesto loro resistere però in qualche maniera loro si oppongono anche in questo caso a quella che era l'immagine che il fascismo aveva fatto di loro cioè di sudditi quindi di non soggetti della storia è un filone poi antico popoli fuori dalla storia quindi loro in qualche maniera nel resistere nel fare questa scelta come suggerisci tu nel libro in qualche maniera si riappropriano del proprio ruolo di soggetto storico e questo è anche il valore aggiunto diciamo della loro resistenza ed è quello che trovo estremamente interessante quindi volevo chiederti eventualmente se hai qualcosa a dire su questo tema e farti una domanda su una cosa che ho trovato anche interessante cioè il discorso della politicizzazione nel senso che tu dici che alcuni di questi partigiani in realtà subiscono un processo di politicizzazione all'interno della banda e ad inscire già Max spero di averlo pronunciato bene la storia bellissima che racconti della figlia poi tu hai ricostruito che poi lui ritornato diciamo in patria svolge l'attività di politico divene anche ministro e quindi questa cosa non so anche parlando con la figlia se si lega anche alla sua esperienza partigiana questa sua prosecuzione nell'attività politica e quindi anche a punto di vista istituzionale diversione del microfono innanzitutto volevo dire che sono d'accordo con Marco le prime fasi della resistenza sono molto interessanti perché prima ancora delle questioni politiche prima ancora dei problemi legati alla tendenza alleata che ne so ad armare di meno le brigate caribaldi invece delle altre brigate prima ancora di qualsiasi i primi messi della resistenza sono proprio quelli adesso non ricordo l'autore di questo libro un popolo alla macchia cioè sono proprio i mesi in cui diciamo persone che hanno biografie diverse storie diverse vite diverse si ritrovano per necessità a dover costruire innanzitutto un immaginario comune cioè questi quando si mettono insieme devono costruire un modo per stare insieme e quindi dovranno anche costruire no cioè una delle motivazioni che se le dovranno raccontare se le dovranno spiegare cioè quando che so non erano così consapevoli immagino sono abbastanza sicuro che stavano rompendo il monopolio statale della forza perché erano civili e non militari che cioè ok quindi come dire sono i mesi in cui dovremmo fare lo sforzo di indagarli prima ancora che come comunisti come socialisti come iugoslavi come russi come ebrei prima ancora di qualsiasi sovrastruttura dovremmo fare lo sforzo di indagarli come persone umane ok senza sovrastrutture che trovano al loro interno le risorse che poi permettono loro ecco di rompere il monopolio della forza e farlo in maniera organizzata ok però ecco all'inizio è questo qui e come persone umane sono portatrici e portatori di contraddizioni di limiti di difetti cioè come spiegava Pavone noi non è che possiamo pretendere dalle particiane e dai particiani un carico di responsabilità morale superiore alle responsabilità morali derivanti dall'intera seconda guerra mondiale che ha provocato 60 milioni di morti costragi crimini per quanto non si sia vista una strace particiana di rappresaglia dopo un rastrellamento comunque un certo tipo di settori culturali revisionisti ma anche un certo tipo di storiografia sembra voler continuare a caricare il movimento particiano di responsabilità morali che sono come dire allora gli eserciti che ne so radere al suolo città che non sono un obiettivo militare semplicemente per fiaccare il morale della popolazione però ecco c'è tutto un mondo che continua a caricare sui particiani diciamo responsabilità invece sono donne e uomini in carne e ossa ripeto con contraddizioni limiti un grande coraggio sicuramente ma anche errori cioè fa tutto parte dell'essere umano venendo alle domande allora sì la parte loro ovviamente non erano consapevoli secondo me di fare questo processo di cambio da oggetti della storia a soggetti della storia però è chiaro che questo hanno fatto perché loro come dicevi tu Domenico potevano tranquillamente restare nel campo di internamento di Villaspada come la maggior parte di loro ha fatto per motivi diversi qualcuno perché era fedele al fascismo perché quando i partigiani arrivano ad attaccare la villa due restano feriti rispondendo al fuoco due ascari ok oppure qualcun altro è rimasto nella villa perché nel frattempo erano nati dei bambini e chi c'ha un neonato non è che raggiunge la montagna in prossimità dell'inverno però quelli che sono scappati hanno rivendicato il loro diritto ad essere soggetti della storia è un po' come per le donne che hanno partecipato alla resistenza le donne non è che sono scappate dai bandi come i renitenti alla leva o i militari dopo l'otto settembre la scelta delle donne di partecipare alla resistenza ha anche un valore più forte perché potevano restare a casa e non rischiare di morire ammazzate ok poi l'altra cosa che dicevi sulla politicizzazione peraltro quella di Adam Shirejama non è l'unica vicenda della quale adesso sono in grado di ricostruire il dopo durante la stesura del libro era l'unico peraltro invece le ricerche successive che mi terrò per la seconda edizione se Dio vuole ricostruiscono la storia del loro dopo ok e Adam Shirejama che prendiamo come esempio però ecco non è l'unico ad aver avuto una carriera politica per così dire una volta rientrato in Africa Jama diventa ministro della giustizia e della religione poi dopo il colpo di stato di Siad Barre diventa in viso al dittatore e viene imprisionato ok e morirà in seguito a una malattia contratta in carcere nel 1973 però la sua vicenda ci dice come anche per loro la resistenza ha funzionato come una grande palestra di democrazia ok ma questo vale innanzitutto per gli italiani gli italiani venivano da vent'anni di dittatura ok alcuni giovani partigiani come quel taborro che ho intervistato erano nati nel 24 nel 23 nel 25 quelli avevano sentito parlare soltanto il fascismo eppure in 18 mesi di resistenza il movimento partigiano la resistenza è riuscita a dar vita a una grande palestra di democrazia che ha fatto sì che finita la seconda guerra mondiale tolto qualche episodio marginale molto molto marginale la strada del paese verso la democrazia è stata possibile in maniera incruenta grazie proprio a quel tipo di esperienza lì dove queste persone si erano educate al processo democratico ma pensiamo io vengo da un territorio le Marche dove a cavallo tra Marche e Umbria c'era una comandante di squadra partigiana Valchiria Terradura Valchiria Terradura comandava otto uomini otto uomini che erano stati educati a considerare le donne inferiori angeli del focolare dovevano stare a casa pulire accudire i figli e cucinare questa era l'educazione fascista no rispetto al ruolo della donna bene in dieci mesi di resistenza questi otto uomini dietro ordine di una donna di Valchiria Terradura si sarebbero fatti a ammazzare ora voi capite che processo veloce di trasformazione mentale e quando a questi otto uomini o agli uomini che avevano partecipato alla resistenza o fiancheggiato la resistenza o si sentivano vicini alla resistenza è stato detto introduciamo il diritto di voto alle donne e a questi è sembrata la cosa più naturale da fare ok quindi in questo senso anche per gli stranieri anche per i somali e gli etiopi la resistenza ha funzionato come una palestra della democrazia grazie mille io direi che il tempo a nostra disposizione penso sia finito visto che abbiamo messo 12 e mezza come termine ripeto non voglio essere è stato veramente interessantissimo come incontro quindi grazie mille mattino grazie anche paola io ringrazio ancora voi scusate se mi inserisco mi è piaciuto tantissimo ringrazio i ragazzi che ho visto che sono rimasti collegati fino alla fine grazie veramente è stato un piacere grazie a te grazie a tutti gli intervenuti e vi do appuntamento per il prossimo webinar che avrà luogo tra due giorni il 22 aprile alle 11 sempre alle 11 si chiama la resistenza primi nuclei armati resistenza in pianura e stragi nazifasciste e intervengono Marco Minardi Maria Chiara Conti e Mario Renosio per chi vuole partecipare così come per questo evento può mandare un'email a direzione chioccio l'esituto storico parma.it e riceverà il link per accedere al webinar grazie a tutti e questa puntata tra l'altro questo episodio lo troverete sui social pubblicato il 25 grazie grazie arrivederci complimenti a voi